Violenza e atti persecutori ai danni della moglie e dei due figli minorenni sono le accuse mosse all'indirizzo di un giolese di 35 anni arrestato dalla polizia e adesso recluso nel carcere di Contrada Balate. Sono state le grida della donna e dei bambini che hanno indotto i vicini di casa a dare allarme e a telefonare agli agenti del commissariato che sul posto hanno fermato il marito violento e sequestrato un flacone vuoto di acetone usato come liquido infiammabile, un accendino e diversi abiti bruciati dal fuoco. Lui ha minimizzato parlando di una banale rite tra coniugi, lei invece ha deciso finalmente di parlare e dopo un pianto liberatorio ha raccontato ai poliziotti lo suo calvario che durava da anni. Accompagnata in ospedale è stata medicata e dimessa, guarida in una decina di giorni. All'origine dei ripetuti atti di violenza ci sarebbero un ingiustificato sentimento di gelosia e un ossessionante senso di possesso verso moglie e figli. Quando i poliziotti sono entrati in casa nel centro storico di Gela hanno trovato i bambini terrorizzati per aver assistito all'ultima sfuriata del loro papà che ha colpito la mamma con un pugno e per dispetto le ha bruciato gli abiti conservati nell'armadio. Il pubblico ministero Lara Secacini con il coordinamento del procuratore capo Fernando Asaro ha disposto il trasferimento in carcere dell'uomo che risulta avere precedenti per i reati contro il patrimonio. La polizia di Gela, direttata da Francesco Marino, in una nota ha rivolto alla città l'invito a denunciare qualunque episodio di violenza subita, in particolare in ambito familiare o di convivenza, al fine di arginare tempestivamente il reiterarsi di questo fenomeno criminale prima che degeneri in atti di più gravi conseguenze.